Sulla piazza che non gara la macchina, non gara solo uno che aveva la macchina, invece stanno prendendo in fondo e basta. E gli americani quando gara la scelta, che aveva 4 o 5. Cosa era quella con la peta? Beh, era da buttevete. Anche i buttevete? Sì, non la peta mai giocava. Ma in fondo gioca da macchina? Ma mai gioca da macchina, i buttevete. Beh, ma parlo delle persone che vogliono giocare. Ti metto a sbagliare le persone che giocava da macchina. E c'è ancora giocare.